Ciao ragazze, oggi vi presento un vestito che noi di solito usiamo al mare come copricostume o per uscire a fare una passeggiata, di solito col flip flop o i sandali bassi. Allora, perché non dare un altro senso a questo abito? Anche perché mettendo un paio di tacchi a spillo, che siano sandali se fa caldo, o in primavera con i decolletè, magari anche senza collanti, io in questo caso uso i collanti perché ancora non sono abbronzata, e una cinta in vita. La cinta in vita, se siete un po' più sopra peso, è meglio una cinta piccola, sottile. Se invece siete magre, può essere pure una cinta bella alta. Potete pure scegliere dei colori molto più accesi, un blu, un giallo, un rosso, un nero, perché starebbe benissimo. E in questo modo questo vestito può essere ancora sfruttato anche per altre occasioni, anche per uscire a fare una passeggiata, andare a pranzo fuori, perché già ce l'ha un tocco un po' più importante del solito vestito che poi al mare andiamo due settimane all'anno, quindi lo usiamo poco, lo rimettiamo nell'armadio. Riprendiamo i vestiti vecchi dall'armadio e diamo in un nuovo senso. Ok, ciao ragazzi, un bacio, mettetemi un like!